Assessore Longobardi, è stato presentato quest'oggi il primo bilancio dell'attività con i velo OK sul comune di Taggia. Come è andata? Direi che è andata molto bene. Abbiamo raggiunto quelli che erano i nostri obiettivi, quello di assicurare un discorso di prevenzione per due aree che erano state individuate già in precedenza da alcuni studi della Polizia Locale. Queste aree erano via San Francesco e via Aurelia Ponente, a differenza di quello che molti ci accusavano, non abbiamo fatto cassetta ma abbiamo fatto molta prevenzione. Nei vari controlli poche sono state le sanzioni rilevate, l'ultima è quella di ieri che sono soltanto tre sanzioni, peraltro per inadempienze non gravi. Tutto è riconducibile a motociclisti. Gli abitanti di queste due zone sono rimasti già molto contenti sin dai primi passi, ovvero con la posinopera di questi velo OK, si sentono più sicuri. In precedenza era stato fatto già anche con la posinopera dei passaggi pedonali rialzati. Dopodiché poi con il sindaco che è tolraggiunta si è deciso di fare anche questo passo per aumentare i limiti di sicurezza di queste due vie. E noi veramente siamo molto soddisfatti perché stiamo parlando di rilevazioni che hanno determinato un abbasso, una diminuzione della velocità del 60% sulla via Aurelia e di quasi l'80% via San Francesco. Quindi direi che i risultati però sono conseguiti pienamente. Questa campagna è una campagna di sicurezza stradale a livello nazionale portata avanti da noi sicuri insieme alla fondazione ASAB della Polizia Stradale. Una campagna che punta a contrastare i comportamenti pericolosi su strada in generale, partire dalla distrazione e dall'inflazione in generale. E poi anche sviluppare una cultura della sicurezza stradale, quindi cercare di far sì che l'utente capisca l'importanza di comportarsi bene e di rispettare tutti i dettami del codice. Qui su Tagec è partita in via sperimentale da un paio di mesi ormai. Tra le attività che abbiamo fatto partire c'è quella abbastanza evidente e vistosa delle famose colonnine su strada che sono state collocate con finità soprattutto preventiva per ridurre stabilmente le infrazioni. Il primo risultato si è visto perché c'è stato un caldo di circa il 60% delle infrazioni e un azzeramento delle infrazioni gravi sopra i 90 all'ora. Sono state poi attivate anche periodicamente a livello sanzionatorio ma con un risultato veramente minimale perché praticamente è stato sanzionato solo un utente ogni mille di quelli che era in transito. Il progetto però, lo voglio sottolineare, si occupa anche di altri aspetti culturali con le scuole, con i cittadini eccetera. Abbiamo fatto delle iniziative con le scuole primarie con uno spettacolo proprio mirato sulla sicurezza strada che ha riguardato sia taggia che arma. E quindi se poi l'amministrazione andrà avanti con queste iniziative l'idea è quella nel corso del tempo di far partire sempre più attività sulla prevenzione e soprattutto sulla cultura della sicurezza stradale.